Si finge spasimante, corteggia una donna e poi la rapina di 500 euro con l'aiuto di un complice armato. Sono scattate nuovamente le manette ai polsi di Sante Lanzillotti, pregiudicato ostunese di 41 anni, responsabile, insieme ad un incensurato 32enne di Ostuni, della estorsione di 500 euro ad una 45enne, sempre della città bianca, portata con la forza in aperta campagna e derubata del denaro che aveva in borsa al momento dell'azione criminale risalente alla scorsa estate. La donna era stata tratta in inganno da Lanzillotti che, fingendo di corteggiarla, aveva fissato telefonicamente con lei un appuntamento alla villa comunale di Ostuni e dopo essersi incontrati aveva romanticamente invitato la malcapitata a fare con lui un giro in auto. La donna, probabilmente affascinata dalla situazione, aveva consentito e passato con l'uomo in auto l'intera serata. Per concludere in bellezza, il pregiudicato aveva poi condotto la donna in una zona altamente isolata alla periferia di Ostuni, precisamente incontrata Tamburroni, dove poi si è scoperto che Lanzillotti era domiciliato e dove l'uomo ha fermato l'auto. A quel punto era entrato in scena il complice che, incappucciato ed armato di pistola, aprendo con violenza la portiera della donna, le aveva strappato di mano la borsa, causando anche con lo strattonamento la caduta della stessa sul pavimento fuori dell'auto. A quel punto i due malviventi, lasciandola per terra, erano fuggiti velocemente con l'auto verso Carovigno. La donna invece, sconvolta e senza una scarpa, persa durante la caduta nell'auto dei malviventi e senza neanche la possibilità di comunicare con nessuno perché il suo cellulare era nella borsa, era stata costretta a tornare a piedi alla propria abitazione. Sul tragitto, fortunatamente, era stata soccorsa da un passante che, in pietosito, l'aveva portata al commissariato dove poi la donna ha sporto denuncia contro ignoti. Le indagini serrate hanno portato quindi a Sante Lanzillotti, ritenuto il falso spasimante, e al suo complice, un 32enne di Ostuni, incappucciato e armato, autore materiale della rapina. Visti i presidenti dell'arrestato, la polizia sta proseguendo con le indagini per verificare se effettivamente esistano altri aspetti della vicenda finora non conosciuti.